Buongiorno, sono Daniele Prostocimo di Vali Cucine, sentiamo allo stand di Algo Cucine 2014. Quest'anno il nostro tema è la Sustainability and Innovation, che significa che la nostra innovazione è guidata dalla sostenibilità. Significa che all'interno della nostra azienda c'è la cultura della sostenibilità e questo ci permette ogni anno, ogni giorno di lavorare su quello che è il nostro prodotto in termini di miglioramento. Se la sostenibilità per noi è dematernizzazione, riciclabilità, riduzione delle emissioni tossiche, lunga durata tecnica ed estetica, ogni giorno cerchiamo di migliorare questa qualità e questo ci porta ad essere più innovativi. Parliamo oggi di tutto quello che è innovazione per Whirlpool. Partiamo proprio dal set che vedete alle mie spalle, Green Kitchen. Green Kitchen è sicuramente il concept più innovativo che Whirlpool propone a Evocucine 2014. Parliamo di un set di prodotti che possiamo definire il più green del mercato, in quanto in qualsiasi condizione d'uso è il set di prodotti che consuma meno energia e garantisce risultati e performance ottimali. Questo è guidato soprattutto dal fatto che abbiamo l'unico forno a induzione presente oggi sul mercato. Quindi Whirlpool ha portato la tecnologia a induzione all'interno del forno e questo permette di ottenere risultati di cottura straordinari risparmiando fino al 50% di energia e di tempo. Allo stesso tempo abbiamo sfruttato sempre nello stesso set il calore generato dal frigorifero che sarebbe disperso in qualche modo perché viene appunto generato dall'evaporatore che si trova sul retro del frigorifero per riscaldare l'acqua che poi viene utilizzata nel ciclo di lavaggio della lavastoviglia. Questi sono solo un paio di esempi di come Whirlpool affronta il trend del risparmio energetico e lo utilizza per fornire ai consumatori soluzioni sempre più innovative e in linea con le esigenze che il consumatore ci sta presentando oggi. Allo stesso modo abbiamo trend di design. I consumatori ci stanno dicendo sempre di più che l'ambiente cucina si apre verso l'ambiente living ed è per questo motivo che abbiamo creato una linea di prodotti che si integra perfettamente con l'ambiente living come ad esempio il frigorifero e il congelatore che nascono dalla partnership con gli annelli Evolpi azienda linear nel mercato delle carte da parati. Abbiamo infatti pannellato i nostri frigoriferi con dei pannelli che riprendono appunto le grafiche le estetiche di queste carte da parati in modo da essere totalmente integrati nell'ambiente cucina e aperto appunto sull'ambiente living. La stessa cosa l'abbiamo fatta con dei forni utilizzando i vetri che possono essere abbinati pienamente con le tendenze di legni che i cucinieri di oggi presentano appunto ai consumatori. Questi sono appunto solo alcuni degli esempi delle attività che Whirlpool sta facendo per rispondere sempre meglio alle esigenze del consumatore e ascoltando appunto quelle che sono le richieste e portando appunto questi prodotti molto velocemente sul mercato. Grazie